Direzione Porto e stiamo praticamente riprendendo lo stesso volo della scorsa settimana per andare anche a Lugo. Il venerdì è il giorno più noioso del Modus. Andrea guarda la MotoGP, io sto guardando il telefono da tre ore. Il venerdì è stato un po' di spettacolo, ma non è stata un po' di spettacolo, ma è stato un po' di spettacolo. Fai a riuscire Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.